ciao questo nuovo video che solito che faccio quando riesco ad andarmi a recuperare qualche qualche nuovo film che mi sono andato a vedere questo film che in animazione che è uscito nel è uscito nel come si dice è uscito nel 2023 come film che come paese di produzione della gran betania canada che proprio questo film il fantasma di canterville che come regia di questo kim barton e robert chandler che ho visto che magari lì in gran bretagna e canada sarà proprio e anche ma è uscito anche l'anno scorso nel 2023 ma ho visto che qua in italia e ha proprio uscito quest'anno che la sua data ufficiale che che è uscita qua in italia è stato giovedì 18 gennaio di quest'anno del 2024 qua in italia che come il film 2 a 1 e mezza qui 90 minuti quasi 1 e 28 di di film che più che altro questo film di animazione che parla più che altro che sono sono agli inizi del novecento e che la gran bretagna sente il peso del del passato degli stati uniti sembrano liberi bostoniana di ferro si sposa così da una parte si sposta dall'atlantico prendendo possesso della storica residenza proprio di canterville che gli americani tutto ragionismo e scienza moderna che si scontrano subito con le credenze secolari e gotiche proprio degli inglesi che in più che altro ma in particolare con l'idea che la vecchia magione sia infestata dal fantasma di sir simone del canterville che è morto 300 anni prima in circostanze più che altro magari misteriose misteriose dopo aver ucciso la moglie questa lady e che è vero ed è vero che lo spirito di sir simone tormenta gli abitanti della della casa ma virginia la primogenita degli otis ben presto ci fa amicizia e tra una lia isone con il giovane eri duca di questo c'è si è il peso di un'antica profezia per un pezzo avranno ma incomincia mai più che altro a iniziare questa questa avventura che più che altro la trama di questo film di animazione e a questa qualche visto che lo sono riuscito ad andarmelo a vedere grazie magari che adesso lo hanno messo sulle solite piattaforme che se uno lo può sia qualche abbonamento lo può anche recuperare li volevo dedicare magari un video e portarlo magari sul mio canale dopo essendo mai un film è uscito già da qualche mese che è uscito a gennaio come come firme qua in italia ero magari un po' curioso per andarlo a vederlo che era nuovo come film che non era magari così tanto vecchio che più che altro magari parlava di questo che il solito magari classico senza magari tempo è ambientato nella campagna inglese del fine ottocento questo film qua che già dalle recensioni che avevo letto prima di andarmi a guardare il film ho visto che erano tutte positive che ne hanno parlato bene bene di questo film l'ho voluto l'ho andato a ricopriarlo lo stesso nel guardare che come al solito magari vi lascio sempre sotto in descrizione informazioni sempre sul film tra il cast delle persone che hanno messo hanno partecipato a mettere magari la voce ai personaggi proprio di questo film di animazione assieme a magari il videotrailer e se riescono magari a trovare qualche altra informazione magari più sempre sul film ha trovato il tutto sotto la metto tutto sotto in tutte queste informazioni tutte sotto in descrizione e niente che quello che potevo mai dire su questo film e marello già detta al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto che porto sul mio canale che più che altro magari come genere toccava più che altro magari fantasy commedia come film che essendo mai anche proprio una famiglia dentro poterà toccare magari anche genere famiglia che il solito magari film da a guardare magari con i propri magari figli o adatto magari proprio per i bambini questo film qua e niente che quello che potevo dire magari l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto magari sul sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vi vediamo al prossimo video ciao